Siamo con il DS dell'Alma Roberto Canestrari, anche lui riconfermato come il mister Alessandrini, come gran parte della Rosa, si è detto che la società ha fatto uno sforzo non di poco conto nel riconfermare varie pedine che erano appetite anche da squadre importanti di categoria superiore. Sì, direi di sì. La società ha fatto un grandissimo sforzo, e lo sanno un pochino tutti, sforzo finanziario, perciò riconfermare tutti i pezzi pregiati che l'anno scorso hanno ben fatto e ben figurato non era semplice. Oltretutto quasi tutti i giocatori erano richiesti da stessa categoria e categoria superiori e oltretutto grande merito magari a questi ragazzi perché poi oltretutto hanno scelto Fano perché credono nel progetto Fano, perciò insomma onore anche a questi ragazzi che ci hanno dato estrema fiducia e che comunque brava la società, che comunque anche a livello di sforzo finanziario è stato uno sforzo importante perché come mi ripeto insomma erano tutti i ragazzi o tanti ragazzi erano appetibili anche a società di categorie superiori. Un po' tutta Fano ha riscoperto quest'amore verso l'arma di Juventus Fano, anche memore dell'ultimo campionato veramente veramente bello. Si sta per creare, anzi si è già creato, si sta proseguendo diciamo in questa cosa bellissima in questa alchimia, unione tra città, tifoseria e giocatori che ha veramente del magico Roberto. Sì, direi di sì, molto bello, da quanto frequento questo ambiente credo che sia la prima volta non mi ricordo un ambiente così positivo, tifosi sono stati bravissimi, sportivi bravissimi, una città comunque coinvolta tutto molto bello, l'anno scorso veramente ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto un lavoro insieme straordinario perciò per quanto mi riguarda, te l'ho detto, la città, il pubblico, il tifoso, insomma per noi è un valore aggiunto perciò ecco se vogliamo fare bene dobbiamo cercare oltretutto di mantenere questo rapporto, bellissimo rapporto che c'è anzi incrementarlo, perciò stiamo facendo di tutto, poi non lo so, ci riusciremo forse, ci riusciremo in parte ma comunque stiamo facendo di tutto per cercare di mantenere questo tipo di rapporto perché questo tipo di rapporto è un valore aggiunto, perciò da bene che abbiamo fatto l'anno scorso volevamo non rovinare niente, anzi addirittura incrementare, perciò è per questo che poi alla fine si è confermato tutti i pezzi importanti, rinforzandosi con oltretutto dei giovani altrettanto interessanti Siamo con uno dei volti nuovi, Maurizio Chiacchiarelli, classe 88, abruzzese, molto bene con il San Nicolò Termo di mister Epifani, molto bene anche nei playoff, molto bene anche qui a Fano dove fece un gol su calcio di rigore a Ginestra, nel primo tempo aveva avuto un'occasione che poi Ginestra ti ipotizzò tutti molto contenti a Fano del tuo arrivo, un giocatore eclettico che sa agire sia da trequartista da esterno e anche da seconda punta, Maurizio benvenuto a Fano Grazie, grazie mille, per me è un onore essere qui, vestire questa maglia e questa gloriosa società e questa gloriosa città, una società che è seria, un gruppo di ragazzi straordinario uno staff preparatissimo, quindi per me è stata facile la scelta di arrivare qui a Fano Ecco, ti ricordiamo quella maglia bianca azzurra del San Nicolò, agli ordini per me di un ottimo mister e di un ottima persona, l'abbiamo conosciuto solo nelle interviste, nelle tre volte che ci siamo incrociati Massimo Epifani, ottimo giocatore e anche ottimo mister, farà strada come faranno strada molti dei tuoi compagni Stivaletta che era stato anche trattato da Fano ma anche tanti altri Una bella scuola, una bella società, quella del San Nicolò e anche un bel viatico che ti ha permesso di arrivare qui a Fano che per te naturalmente non è un punto d'arrivo No, no, assolutamente no, per me è un punto di partenza come ti dicevo prima, io sono onorato di stare qui poi il mister Epifani l'ha avuto sia da allenatore che anche da giocatore quindi in lui nutro una grandissima stima, una grandissima amicizia è un tecnico preparatissimo che sicuramente arriverà ad altissimi livelli, di questo ne sono sicuro Il tuo vero ruolo? Dove ti piace giocare? Sul partito sempre esterno, anche da mezzala, ho fatto la mezzala, il trequartista, la punta mi adatto alle esigenze della sua, metto a servizio della squadra, a disposizione del mister quindi per me qualsiasi ruolo mi adatto benissimo Il Fano gioca a Rombo, potresti essere l'interno destro di centrocampo o anche la seconda punta? Sì, parto da mezzala, mezzala destra o sinistra potrei fare all'occorrenza anche il trequartista o anche la punta e questo poi sarà il mister a decidere dove sfrutterò meglio le mie caratteristiche Bocca al lupo a Maurizio Grazie Marco Alessandini, mister confermatissimo del Fano come confermatissima è la stragrande maggioranza della Rosa al Fano quest'anno si chiede magari uno step maggiore rispetto al secondo posto dello scorso anno è una responsabilità importante perché come ho già avuto modo di dire ripetere un campionato come quello passato non è così scontato né facile perciò dobbiamo essere bravi a ritornare ad essere competitivi il che non è facile e abbiamo già cominciato col lavoro sperando che tutti quanti sia i giocatori dell'anno scorso che quelli nuovi a cui dobbiamo sicuramente completare la Rosa abbiano quelle motivazioni giuste e quell'impegno che hanno messo sempre solo attraverso il lavoro possiamo poi essere all'altezza di un campionato impegnativo come quello di quest'anno Un'occhiata al Girone, non è niente di ufficiale si parla di un Fano inserito con le Tosco Umbre e le Romagnole anche se poi magari alla fin fine risulterà sempre il solito Girone con le Molisane Molisane appunto a parere mio c'è una super squadra quest'anno anche se ha cambiato molto ma il Campobasso pare avere forse la palma della grande favorita nel vecchio Girone ci sono tantissime squadre le solite dal Campobasso il Campobasso che si è mosso per tempo il Mattelic che sta operando sul mercato la Fermana, la Sammeretese che alla fine farà come giusto che sia una squadra blasonata perché la città lo richiede senza dimenticare San Nicolò che a fare i spenti si sta muovendo perché investe nel modo giusto su una squadra che già funzionava poi senza dimenticare le sorprese di squadre che possono operare e lavorare in un determinato modo è sempre un campionato difficile ecco perché ho detto che non è facile ripetersi o magari in questo momento dire qual è l'obiettivo nostro noi dobbiamo partire sempre con i piedi ben per terra ben piantati, lavorare giorno dopo giorno crescere e cercare di capire se si può ripartire da dove ci eravamo lasciati l'anno scorso e cercare di inserire i nuovi e poi verificare sul campo quello che si è capace di fare